scato abbastanza allora qui ora vedrete appunto prenderemo questo che ci servirà in futuro soprattutto allora dovrò ricordarmi come tirarli fuori nuovamente? se si trovano da dentro è per una buona ragione sono certa che sia ancora in grado di sussurrare la risposta alle orecchie delle persone sbagliate ma non per molto presto la vedrò bruciare il caprone nero verrà sacrificato per porre fine a tutto questo allora tutto sarà finito allora Derceto e tristemente addio Derceto e tristemente addio Astarte in pavidi pirati di Ponchartrain che possiate navigare fino a raggiungere le sponde del lago Hali ok? ti prendo in parola? l'ho fatto l'ho fatto ho varcato la soglia della mia agognata destinazione senza un dispositivo di messa a fuoco ora il mio talismano conosce queste strade e non ho bisogno delle piastre posso trovare la faiette tanto facilmente quanto la mia stanza ho visitato la tomba di mio padre e ho visto la cripta che mi aspetta grazie per aver aperto queste porte adesso devo farmi coraggio e tornare al tumulo ripugnante fuori dall'impianto di trivellazione spero che al mio ritorno vi sentirete meglio Jeremy non ho la minima idea di che cosa stia dicendo poi qui ok ora dobbiamo mettere in ordine queste cose qui ok 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 Quindi abbiamo William Franklin e Nora Che qui corrispondono Allora, William è il 2 Franklin è il 9 E 4 è Nora, 2, 9 e 4 Ora, con quel... Allora, eccolo qua Il 2, 9 e 4 sono pesci Bilancia, sì Pesci, bilancia e toro Pesci, bilancia e toro, ok E li dobbiamo andare a inserire qua dentro Quindi Pesci Bilancia Toro Questa è la soluzione Piastra rotta Oggetto chiave Il pezzo di una piastra decorativa più grande Di qualità scura con effetto ossidato Forse è la soluzione E' la soluzione Grazie a tutti.